Il Medio Oriente ha bisogno di pace, la terra di Gesù ha bisogno di pace. Lo ha ribadito Papa Francesco venerdì pomeriggio incontrando 3500 esponenti dell'Ordine Guestre del Santo Sepolcro. Il Papa ha ricordato anche il triplice impegno che dovrebbe animare ogni cristiano, camminare, costruire, confessare. Nel cammino della vita, detto il Papa, ognuno deve essere errante o pellegrino. Molte persone sono erranti perché prive di un ideale di vita. Il pellegrinaggio invece non è un errore senza meta, ma un'esperienza. Per costruire con carità, compassione, amore. Il camminare per costruire nasce dal confessare in modo sempre più profondo la fede. La professione di fede e la testimonianza di carità, ha affermato, sono strettamente connesse. Il Papa infine ha esortato l'Ordine Guestre ad essere ambasciatore di pace.